Epifanie della coscienza. Dissociazione e creatività cura di Vincenzo Ampolo. Se impariamo a saper vedere l'ultima camera non è mai l'ultima. Ogni giorno si possono scoprire nuovi spazi che non credevamo potessero esistere e inevitabilmente queste conoscenze dilatano di smisura il nostro sapere. Questa ricerca di senso è ciò che caratterizza la vita di coloro che non si accontentano di ciò che conoscono, ma come esploratori entusiasti e un po' incoscienti si spingono oltre i luoghi comuni, le acquisite certezze di spazi mentali abitualmente frequentati.